Allora, questa sera facciamo un esperimento, nel senso che Luca ha scritto un libro sulle Alpi e poi vi diremo esattamente su cosa. Io ho scritto un libro sul ghiaccio, quindi diciamo che tutti e due siamo andati un po' a invadere amichevolmente il campo dell'altro, però da un punto di vista molto particolare. Allora io comincio a presentare lui, poi lui farà lo stesso con me. Luca sono alcuni anni che ha deciso di andare ad abitare in montagna, magari non tutto l'anno ma per buona parte dell'anno, tutto quello che può e quindi ha comperato un rustico da riedattare in Borgata Vason sopra Ulse in Val di Susa. E questo ben per lui direste, direte ma chi se ne frega. Invece è qui che parte l'interesse della questione perché in questo libro che è una specie di reportage direi, proprio un diario battente giorno dopo giorno, Luca ci racconta da un lato il suo sogno di cambiare abitazione, di andare in montagna, poi ci dirà insomma che è un luogo che lui ama e frequenta fino da ragazzino, però ci racconta anche con una precisione chirurgica tutti i problemi che ha incontrato e che incontrerebbe qualunque cittadino o anche non cittadino che decida di fare una scelta di questo tipo. Quindi diciamo che svela e sfata quello che noi ci diciamo ai convegni da vent'anni, cioè che è bello se i cittadini vanno in montagna, i nuovi montanari, ripopolare la montagna e bisogna fare così e bisogna fare così. Poi però quando uno come lui ci prova si scontra con una marea di difficoltà che sono di ordine burocratico, soprattutto di ordine burocratico direi. Cioè tutto quello che si sente nei convegni che bisogna aiutare, spingere, invogliare, si ribalta e diventa tutto un no, forse, vedremo, aspetta, abbi pazienza e quindi è come se qualcuno, anzi come se tanti burocrati si mettesse davanti a te a ostacolare queste iniziative. Allora io trovo che questo libro che poi Luca ci racconterà nel filo per segno sia da questo punto di vista molto attuale perché siamo arrivati a un momento, e qui parlo da esperto delle Alpi, abbiamo passato delle fasi insomma, c'è stata una fase di grandi speranze che corrispondeva per esempio nel 92 con la Convenzione delle Alpi che era già una carta talmente lungimirante che se avessimo anche solo seguito a metà quella carta lì oggi saremo lontanissimi, saremo già vicini al traguardo. Poi ci sono stati i grandi studi anche sulle Alpi a cavallo del secolo insomma, studi antropologici, geografici, c'è stata una rivoluzione proprio degli studi alpini, si è veramente immaginato e descritto e raccontato un mondo con degli strumenti nuovi, molto concreti e molto profondi. Quindi noi intorno al 2002 quando io ho scritto La nuova vita delle Alpi, se no non l'avrei scritta, sapevamo già tutto, era già tutto delineato. Il guai è che poi abbiamo passato vent'anni a ridirci sempre le stesse cose ed è quello che io non vorrei fare questa sera ma non c'è pericolo perché noi non siamo tanto tagliati per la ripetizione. E quindi credo che il libro che è uscito per Einaudi sia importante proprio per dire piantiamola di fare proclami, di fare teorie ma poi guardiamo cosa capita a chi vuole veramente vivere in montagna. Il che naturalmente riguarda anche i montanari di vecchia data ma riguarda soprattutto io credo quelli che hanno delle idee nuove, quelli che vogliono veramente fare un salto di qualità, che vogliono cambiare vita. Perché oggi cambiare vita in teoria è facilissimo ma poi in pratica si dimostra molto complicato. Io adesso faccio la presentazione del libro di Enrico. Io mi occupo di studiare i ghiacciai dal punto di vista prettamente scientifico da circa 30 anni. Enrico invece i ghiacciai li conosce soprattutto da un punto di vista alpinistico come uno dei terreni più straordinari della pratica alpinistica. Il ghiacciaio richiede una certa serie di conoscenze, di cautele ed è anche direi un aspetto paesaggistico insostituibile di un certo paesaggio alpino. Quindi tu li conoscevi i ghiacciai da questo punto di vista, ma hai pensato di fare una trattazione, il grande libro del ghiaccio, che li narrasse sotto tutti i punti di vista, prelevando chiaramente anche i dati scientifici della loro ritirata degli ultimi decenni, ma mettendoci anche storia, mettendoci emozioni, narrazioni, tutto quello che in sostanza il ghiaccio rappresenta anche come metafora, come pittoresco se vuoi anche delle Alpi, ma vorrei dire che non è il primo libro che fai sui ghiacci, perché prima avevi scritto Ghiaccio vivo, non mi ricordo l'anno, Ghiaccio vivo comunque è bravo. Sono passati undici anni. Sono due libri con un taglio un po' diverso, però possiamo dire che tu hai cominciato con Ghiaccio vivo questa avventura che poi hai ulteriormente sviluppato e completato con il grande libro del ghiaccio. Preciso questa cosa, se no poi lasciamo tutto indietro. Ghiaccio vivo era una mia idea, cioè io volevo raccontare i ghiacciai soprattutto dal punto di vista delle leggende, perché l'ho rimasto affascinato del patrimonio leggendario sui ghiacciai delle Alpi occidentali, che è veramente straordinario e che si basa sostanzialmente su due moduli narrativi. Uno è quello della punizione divina, cioè quando alla piccola età glaciale ha castigato i montanari, così gli hanno detto i preti, i parroci, gli hanno fatto credere in tutte le maniere che era colpa loro. È nato questo apparato leggendario, molto bello però dal punto di vista della narrazione, dove in mille salse, in mille forme, praticamente il ghiacciaio, sapete la leggenda della, non so, della valle di Felic, per esempio dell'Is, che la città di Felic che è stata inghiottita dal ghiacciaio dell'Is sarebbe stata... Il comportamento empio ovviamente della solita città dove... Esatto. E poi però il bello è che questo modulo si ritrova dappertutto, si ritrova in Savoia, in Svizzera, io l'ho trovato addirittura sulla marmolada, quindi addirittura nell'unico ghiacciaio un po' significativo delle Alpi orientali, perché tutto dove i ghiacciai hanno fatto paura, sostanzialmente questa avanzata è stata spiegata come una punizione divina. Oggi sappiamo invece anche i motivi per cui c'è stata questa avanzata. La piccola età glaciale ormai ha una data ben precisa di inizio, che è stata molto anticipata rispetto alle narrazioni precedenti, è stata portata al 1257. Perché 1257? Perché è l'anno della più grande eruzione vulcanica della storia recente, insomma degli ultimi millenni, un'eruzione che però è avvenuta molto lontano da noi, è avvenuta in Indonesia, nell'isola di Lamok, e il vulcano si chiama Samalas ed è definita la Pompei d'Oriente. Questa eruzione vulcanica spande su tutta la stratosfera una quantità enorme di polveri e genera un primo rilevante raffreddamento. Poi per puro caso, per una sequenza assolutamente casuale di eventi, ce ne furono altre e questo innesca un processo che si autoamplifica, aumentano i ghiacci della banchisa nelle zone dell'Oceano Artico e nei secoli successivi l'Europa soprattutto tende a raffreddarsi e questo dà luogo alla piccola età glaciale. Poi c'è stata anche una leggera diminuzione dell'attività solare che da sola, senza i vulcani, non sarebbe stata sufficiente a portare questo raffreddamento. Quindi oggi noi la spieghiamo sul piano scientifico. Allora, nessuno poteva vedere le ceneri di un vulcano nell'altro, quasi nell'altro emisfero, ma comunque equatoriale. Assistevano a questo raffreddarsi del clima con i ghiacciai che quasi quasi entravano in casa, è ovvio che la spiegazione più facile era una spiegazione di punizione divina e la Chiesa su questo ci ha marciato e ha cavalcato, anche se forse anche in buona fede, perché quando vedi fenomeni di cui non sai darti una spiegazione che ti minacciano direttamente nasce tutto questo. E' certo, la glaciologia è una scienza recentissima dell'Ottocento e quindi è evidente che altre spiegazioni non ne avevano, insomma. Infatti. La cosa che mi colpiva però era che appunto l'avanzata dei ghiacciai veniva interpretata come un segno del maligno, no? Come un fatto totalmente negativo. Oggi si è completamente rovesciato il paradigma. Ma certo, infatti. Noi viviamo la ritirata dei ghiacciai come un fatto negativo e questo perché è lì era nata la mia idea di ricostruire tutto quello che c'è in mezzo, cioè questo sguardo che vede le stesse cose con occhi completamente diversi. Certo, ma poi mentre allora le motivazioni erano del tutto naturali, oggi invece sappiamo perfettamente che questa volta sì che questa narrazione di punizione ci sta, perché sostanzialmente è l'effetto di 200 anni di rivoluzione industriale che ha portato con la combustione del carbone, del petrolio e del gas a cambiare il clima terrestre con tutte le conseguenze che già in parte vediamo, proprio con i ghiacciai. Mi ricordo che una mia collega belga che si occupava di comunicazione dei cambiamenti climatici mi diceva sempre ai convegni, ma voi in Italia siete fortunati, perché avete le Alpi e con quelle fotografie la gente che va a fare le vacanze a Courmayeur o dove volete su grandi località turistiche alpine dove c'è un ghiacciaio basta prendere una cartolina di 50 anni fa, confrontarla con oggi e è facile capire. Io ho più difficoltà mi dice lei in Belgio, perché noi non abbiamo né le Alpi né i ghiacciai e quindi devo spiegarlo solo attraverso dei dati più astratti, in realtà non è così, non è che in Italia siamo più consapevoli del rischio climatico perché abbiamo le Alpi vicino, molto spesso nascono una serie di alibi per cui anche chi vede, chi va in montagna e vede che il ghiacciai va indietro semplicemente reagisce dicendo ma non è colpa nostra, è un fenomeno naturale, anzi si attacca a certi dettagli che tu poi forse hai anche messo nel libro alcune cose tipo i walser che arrivano sul versante italiano delle Alpi attorno al 1200 e allora c'è tutta una narrazione che dice perché i passi erano sgombe dai ghiacci, tutte cose che abbiamo confutato semplicemente perché si poteva passare intanto anche dal Sempione, non era necessario fare una migrazione passando dal colle dell'Issa a 4000 metri, ma in ogni caso si cambina più facilmente su un suolo coperto di neve e ghiaccio che su una morena instabile. Certo, infatti in questo nuovo libro invece che il grande libro del ghiaccio non è che la mia megalomania e che la terza fa i grandi libri dei quattro elementi e poi ci ha aggiunto il ghiaccio perché io avevo già appunto questo punto di partenza diciamo, invece qui ho cercato tutti i legami storici tra l'uomo e il ghiaccio e sono infiniti, straordinari e sono come dicevi tu tutto il contrario dello stereotipo che ci viene raccontato cioè che si andava solo quando non c'era il ghiaccio, che il ghiaccio non si ritirava e quindi l'uomo passava accogliere. In realtà l'uomo nella storia ha sempre convissuto col ghiaccio ma in un modo incredibile. Addirittura andandolo a cercare, no? Perché pensiamo prima dei frigoriferi, qui a Torino il ghiaccio che si consumava a Portapalazzo arriva da Val di Susa. Infatti uno degli elementi, dei capitoli nuovi che mi ha più entusiasmato è proprio questo. Pensate che adesso noi vediamo le ghiacciaie ancora bellissime a Portapalazzo, ma per riempire quelle enormi piramidi rovesciate, pigliavano il ghiaccio dal galambra che voleva dire che la mattina partivano degli operai, dei poverazzi. No, in realtà le ghiacciaie avevano, erano un'altra funzione, l'abbiamo ben ricostruita, cioè le ghiacciaie venivano riempite d'inverno con la neve che cadeva a Torino e invece il galambra serviva d'estate, serviva d'estate quando le ghiacciaie erano arrivate un po' allo estremo e qui avevano finito il ghiaccio, allora si poteva estrarre ghiaccio in due ghiacciai della Val di Susa. L'aspetto più interessante era quell'estivo, perché l'inverno un po' col freddo naturale più la neve conservata nelle ghiacciaie, diciamo che fino a giugno si tirava avanti con la neve accumulata nelle crote, negli infernot, le ghiacciaie erano messe il più profondo possibile. Pensate all'estate degli operai, dei lavoratori che partono in piena notte, che si fanno mille e più metri di livello con delle slitte pesantissime, arrivano all'alba, bevono qualcosa per rifocillarsi e poi cominciano a segare con le seghe da legno, perché erano dei segantini in realtà questi qua, dei blocchi di ghiaccio mastodontici grossi quanto erano le slitte e lì era solo l'inizio dell'epopea, perché il problema poi era scendere più velocemente possibile prima su neve, poi su detriti, poi su prati e poi finalmente c'erano i muli con il carro che potevano caricarlo per portarlo rapidamente al treno e arrivare nelle città. Quindi era un'impresa veramente da Fiscarraldo ed è poco narrata, io ho trovato qualcosa ma è difficile trovare… I tuoi ghiacciai sono il ghiaccio a Galambra e il ghiaccio di Bard sopra il Moncenisio, entrambi questi ghiacciai oggi sono estinti, cioè non si potrebbe più fare questa operazione proprio perché non c'è più il ghiacciaio. Quindi nel tuo libro metti insieme anche pagine famose di alpinisti che in qualche modo con il ghiaccio hanno avuto a che fare. C'è tutta l'esplorazione ovviamente, l'epopea artica-antartica è una cosa che meriterebbe una vita per essere io, mi sono sempre occupato più di alpinismo quindi addentrandomi in quelle pagine ho scoperto dei racconti anche dal punto di vista letterario straordinari ma che conoscerete insomma non tutti ma alcuni sono ben pubblicati e ben divulgati e ben tradotti anche perché uniscono la parte della navigazione quindi l'esplorazione di mare con la parte di ghiaccio che nel caso del Polo Nord per esempio è proprio solo ghiaccio non c'è neanche la terra sotto quindi addirittura alcuni hanno avuto l'idea veramente folle di prendere queste navi che già a vederle sembrano tanto fragili ma evidentemente così fragili non erano e di lasciarsi imprigionare dalla banchisa per poi farsi trasportare a nord secondo dei calcoli che si rivelavano poi sempre sbagliati per avvicinarsi al Polo Nord attraverso proprio questo sistema. Poi a un certo punto si rendevano conto che la nave veniva schiacciata dal ghiaccio quindi scendevano e cominciavano a camminare immaginatevi con dei maglioni, dei cani che poi mangiavano dopo un po' perché non avevano più altro e delle avventure veramente straordinarie che di solito non si risolvano con delle tragedie questo che colpisce spesso tornavano a casa questi signori a volte non tornavano ma spesso tornavano e uno stavano via due o tre anni e quindi rispetto per esempio all'epopea imalaiana che conosco molto meglio è molto più straordinaria l'epopea dei Poli secondo me quindi ci sono anche tutti questi aspetti qua e poi c'è tutta la convivenza col ghiaccio sia i popoli alpini e poi veniamo così a te perché tu diventerai uno di quelli che convive col ghiaccio anche se non c'è più e invece i grandi specialisti sono i popoli nordici per esempio gli Inuit quindi c'è tutta questa come dire questa religione quasi questo animismo ecco di chi vive in mezzo ai ghiacci trovo che il ghiaccio sia tra gli elementi più interessanti ovviamente non è da meno l'acqua non è da meno il fuoco ma il ghiaccio è qualcosa di strepitoso perché ti cambia sotto gli occhi perché da un lato è molto mutevole è cangiante quindi ti sparisce sotto gli occhi noi siamo una generazione che abbiamo visto sparire i ghiacciai delle Alpi purtroppo siamo la prima e forse l'ultima perché poi questa velocità qua non l'ha mai vissuta nessuno prima di noi e dall'altro lato però il ghiacciaio è un forziere cioè è un luogo che per esempio in Antartide ma anche sulle Alpi contiene la storia del clima giusto? Sì la storia più bella che è stata ricostruita con i ghiacciai arriva dal polo sud ed è infatti il carotaggio profondo di 3270 metri è stato fatto anche da molti ricercatori italiani un progetto italo francese e che ha permesso di ricostruire il clima terrestre per gli ultimi 800 mila anni quindi c'è dentro tutta la storia dell'uomo visto che noi abbiamo 200 mila anni come Homo sapiens e allora io mi sono sempre occupato di studiare i ghiacciai anzi devo dire che il mio interesse per il clima nasce proprio attraverso il ghiacciaio da una frequentazione di montagna di puro escursionismo inizio a scoprire i ghiacciai perché mi affascina esattamente per le cose che ha detto Enrico cioè a me il ghiacciaio affascinava perché quando andavo in montagna io ho iniziato a scoprire i ghiacciai nella zona del Gran Paradiso quindi i ghiacciai di Ceresole, i ghiacciai della Levanna, il ghiacciaio del carro, il ghiacciaio della capra, il ghiacciaio basei, quella corona di ghiacciai che c'era in un posto facile perché arrivi con la macchina a 2600 metri. Subito mi colpisce il fatto che il ghiacciaio è un elemento della morfologia terrestre che vedi cambiare con tempi umani a differenza del resto del mondo geologico che ha tempi troppo lenti salvo la frana catastrofica vabbè per fortuna non ne capitano tante ma agli occhi di una persona l'ambiente montano resta sostanzialmente costante nel corso di una vita, il ghiacciaio no e allora da lì sono nate le mie curiosità glaciologiche che poi si sono trasformate per fortuna in una professione. Quindi io ho cominciato a studiare ghiacciai in maniera sistematica e scientifica attorno alla metà degli anni 80, proprio nel periodo in cui avveniva l'inversione, cioè da un momento di ghiacciai abbastanza ben pasciuti, io ho proprio in testa perfettamente l'anno di svolta che è il 1987, nel 1986 vado a osservare un ghiacciaio che oggi è praticamente estinto anch'esso il ghiacciaio del carro orientale e vedo ancora un certo tipo di morena, vado l'anno dopo e misuro il primo arretramento. Da lì è stato purtroppo un crescendo. Allora fino a un po' di anni fa io mi sono accontentato di studiare i ghiacciai partendo se non proprio da Torino dalle vicinanze, sono andato a abitare fuori dalla città già 22 anni fa, però comunque insomma sono nella bassa valle di Susa a 30 chilometri da qui, quindi comunque sia per me il ghiacciaio era sempre un avvicinamento che partiva dalla bassa quota e quindi ho sempre avuto desiderio di salire, di andare in una montagna più severa, più montagna con la M maiuscola, quei pensieri che ti tieni lì in un angolo della mente sperando un giorno di realizzarli. Che cosa è che mi ha spinto a prendere una decisione? Mi ha spinto proprio l'incalzare del cambiamento climatico perché negli ultimi dieci anni le cose sono veramente precipitate sul piano dei dati meteorologici, il calore estivo ha cominciato a raggiungere dei valori inediti, lo ha iniziato nel 2003 con la famosa estate della prima volta che a Torino si toccano i 40 gradi e l'11 agosto, 10-11 agosto del 2003, ma poi dopo tutte le estati hanno cominciato sempre più frequentemente a manifestare dati di questo genere. Io detesto il caldo e mi ha cominciato a infastidire un tipo di estate così, sono arrivate le zanzare tigre, anche questo è un effetto del riscaldamento globale e allora la decisione è stata sollecitata da questi cambiamenti che io studiando questi argomenti so benissimo che nei prossimi anni peggioreranno e quindi prevedendo che la mia vecchiaia sarebbe stata sempre più a contatto con un'estate tropicale ho detto è meglio prepararsi, è meglio precedere i cambiamenti che avverranno nel futuro e realizzare in fondo questo sogno e così da qui nasce poi questo libro perché ho voluto narrare un'esperienza personale su due motivazioni. La prima motivazione è questa che non vuole essere soltanto un'esperienza mia ma una sorta di manifesto, pensando che l'Italia ha un patrimonio di terre alte enorme, quasi tutte sottovalutate, quasi tutte marginalizzate, dimenticate, spopolate, insomma se togliete la Valle d'Aosta, se togliete qualche località in Valtellina e l'Alto Adige e il Trentino il resto della montagna italiana è una montagna diseredata, una montagna da sfigati chiamiamola così, tutto l'Appennino praticamente e tutte le Alpi qui occidentali piemontesi, la Carnia, tutte le Prealpi, Oerobiche, Bresciano, tutte queste aree sono sostanzialmente delle montagne dove c'è un lamento continuo, lo spopolamento, perdiamo, la popolazione invecchia chiude la scuola, chiude il negozio di alimentari, chiude la posta, questo è il lamento che senti in tutte queste località che non hanno il turismo blasonato e allora ho voluto dare in un mondo di cattive notizie, perché sono veramente cattive le notizie ambientali che abbiamo davanti, ho voluto dare un piccolo barlume di adattamento realizzabile a casa nostra, perché le montagne in Italia sono tutte vicine alle zone urbane, praticamente possiamo dire che un'ora di macchina da qualsiasi città puoi raggiungere un'area di montagna e ovviamente mi è già stato fatto rilevare che la mia non era una soluzione universale per tutti, ma tu parli per chi ha i soldi, per chi ha la casa, per chi può permetterselo, io non ho mica scritto il libro dicendo che c'è la bacchetta magica, il problema è gigantesco, se Luca Mercalli avesse la soluzione non sarebbe neanche qui questa sera forse, cioè farei altro, allora si va per piccole approssimazioni e per piccoli suggerimenti che possono interessare una fetta della popolazione, ho immaginato tutti quelli che avevano una casa di famiglia e che hanno magari ereditato un rudere che oggi sentono come un peso, devono pagare l'Imu, non gli interessa la montagna, così che improvvisamente pensando a questa evoluzione del clima possono avere invece un piccolo tesoretto in mano, oppure tutti quelli che hanno un alloggio di villeggiatura anni settanta, preso in epoche in cui era piacevole farsi le vacanze in zone verdeggianti, senza particolari interessi alpinistici e anche queste oggi sono diventate un peso perché non fa più moda andare in località di villeggiatura più o meno alpine prealpine, anche questa mi sembra invece un'ottima opportunità per rivitalizzare questo patrimonio ovviamente alla luce di tutte le ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, dedico a questo aspetto una grossa parte del libro perché in fondo se vai in montagna per abitare in una casa con scarse prestazioni energetiche quindi spendi tre volte il tanto di riscaldamento rispetto a quello che spendi in città, oppure per avere uno scarso comfort io dico meglio rimanere nel condominio di Torino, se si va bisogna andare con uno spirito nuovo di efficienza energetica, di risparmio e così ho fatto, cioè la casa che ho preso era la classica baita di pietra ma oggi è una casa certificata, casa clima, io mi scaldo con una manciata di legna laddove il mio vicino ne brucia invece un quintale e c'è quindi anche un aspetto di uso corretto e sostenibile delle risorse in questo senso, però la filosofia generale per me è stata reagire al riscaldamento globale e portarmi avanti col lavoro, poi mi rendo conto che non sarà per tutti, in montagna ci può stare un numero limitato di persone e infatti ho posto anche dei paletti per mettermi subito al riparo dall'altra facile critica, ah ma allora se tutti quelli della città vanno in montagna devasteremo quel poco di territorio alpino che ancora resiste, no, i paletti sono molto semplici, per esempio ristrutturare soltanto l'esistente e non costruire niente di nuovo, una regola molto facile, molto banale. In Svizzera è legge, in Svizzera è legge, legge di Stato da qualche tempo. Se pensiamo che abbiamo un sacco di borgate disabitate con le case addirittura che crollano, comincia a tirar su quelle lì e intanto ci lavoro per vent'anni. Poi vediamo tutti quelli che decidono di trasferirsi in montagna, perché poi io penso ci devono anche essere delle attitudini, se programmiamo questa migrazione verticale la programmazione vuol dire che è anche fatta sulla base delle affinità, delle attitudini, non a tutti piacerà andare in montagna, c'è a chi non piace. Allora, cominciamo a pensare di trasferire le persone che lo vogliono fare, che ci credono, riempiamo tutti gli edifici vuoti o pericolanti, crollanti che ci sono, avremo fatto un servizio al mondo diciamo alpino in termini di recupero di una sua eredità storica, avremo fatto un servizio da un punto di vista della rivitalizzazione di borgate dove oggi non c'è più una struttura sociale funzionale e avremo sistemato al fresco uno, due milioni, tre milioni di persone, non so, quelli che ci possono stare dalla Calabria fino all'Alto Adige e altri troveranno altre soluzioni, non c'è la bacchetta magica che risolve tutto per tutti gratis, questo vorrebbe la gente, vorrebbe che uno desse la soluzione che non costa niente, risolve i problemi a tutti non c'è, non c'è. Allora partiamo da alcune possibilità, io ho individuato questa e nella montagna ovviamente poi è ovvio che la parte personale è tutta la parte di godimento estetico scientifico che è per me l'ambiente montano, ma il manifesto rimane questo, un recupero della montagna italiana sotto la spinta di un cambiamento ambientale che tra tanti problemi almeno a quella montagna lì potrebbe rappresentare una carta da giocare. Certo. E teniamo anche presente che poi Enrico lavora da molti anni con una nuova associazione relativamente nuova, dislivelli è nata quando nel? E ormai sono undici anni. È undici anni però voglio dire è nuova, cioè se pensiamo a tutto il patrimonio storico di studio della montagna che ha 200 anni qui da noi. Però dislivelli ha sempre proposto un modello di rivitalizzazione della montagna. Allora da un lato io ci ho messo un motivo in più per farlo, ma dall'altro ho voluto provarlo sulla mia pelle per fare quella critica realistica e dire qui ai convegni diciamo tante cose, ma poi la realtà è la burocrazia, è una relativa difficoltà antropologica di inserimento, perché comunque questo scontro città-montagna continua a esserci, io l'ho vissuto. Il vento fa il suo giro. Il vento fa il suo giro, siamo stati paragonati a dei migranti con la valigia di cartone, col balcone, se si arrivasse col balcone in montagna io sarei messo in quella categoria lì. E cioè non c'è ancora la visione del fecondare gruppi sociali diversi portando delle nuove idee, ma anche talvolta anche delle risorse, io ho portato dei soldi. Siamo chiari, alla fine, ristrutturare una casa in montagna non è che è un lavoro da niente, io e mia moglie abbiamo deciso di mettere tutto quello che avevamo, tutti i nostri risparmi li abbiamo messi in questa operazione. Beh, uno porta anche delle risorse, non è che vai lì con la valigia di cartone e dire scusa, regalatemi un sottoscala perché questa è la migrazione che io non voglio, questa è la migrazione della disperazione, dell'emergenza. Un conto invece è una migrazione consapevole che ha tutto davanti, un tempo per esplicitarsi senza perdere la dignità. Allora uno va, porta qualcosa, riceve qualcos'altro dagli altri, ma ci deve essere questa disponibilità. E tra l'altro nel libro ho fatto anche questo esperimento. La borgata dove sono andato a finire ha 20 case. È sostanzialmente in apparenza una storia assolutamente anonima, però scavando nella cultura, e le Alpi permettono di farlo perché non c'è luogo che non abbia due millenni di storia, ho tracciato come un carotaggio, proprio come il carotaggio nel ghiaccio io ho fatto un carotaggio storico, a partire dalla geologia di questi luoghi fino ad arrivare al mondo di oggi, scoprendo, essendo un'area che ha vissuto i transiti, è passato Giulio Cesare, da lì ci sono state, fino ad arrivare alla Seconda Guerra Mondiale, una delle zone del fronte più caldo degli anni del giugno del 1940, il Forte Chaberton e tutte queste storielle qui. Allora mi sono accorto che alla fine i montanari per scelta possono arrivare a conoscere perfino di più di quelli che ci sono capitati per caso, che sono magari nati lì da dieci generazioni. Basta informarsi e ti fai anche tu tutto quel bagaglio di conoscenza per cui io oggi, in tre anni, ho conosciuto questo territorio forse meglio di chi ci abita da sempre e magari lo apprezzo anche di più. Questo è un tentativo di dire ricreiamo proprio l'assetto sociale di questo contatto tra la città, la pianura, quello che volete e le terre alte, che sia all'altezza del 2020. Invece molto spesso siamo ancora fermi a delle retoriche da anni 50. A questo proposito vi faccio tre pensieri che mi vengono spesso in mente. Uno è relativo a quello che dicevi adesso. Uno dice il montanaro, quello che è sempre stato lì da 70 generazioni. Allora non è così perché anche il montanaro più montanaro che ci possiamo immaginare, che è il walser, che per noi è l'emblema, quello che sembra scolpito nella roccia, viene dalle pianure. I walser venivano dalle pianure della Germania, addirittura da quelle scandinave, secondo certe interpretazioni, perché non c'è certezza. Sono andati a popolare il Monte Rosa settentrionale, poi hanno scavalcato e sono venuti a sud. Quindi erano persone di pianura che hanno dovuto imparare a fare i montanari. Non è che sono nati i montanari. Anche per un altro motivo climatologico. Le Alpi sono state invase dai ghiacci durante l'ultima glaciazione, più tardi di qualsiasi altro territorio, sono quelle che si sono liberate più tardi. Quindi c'era già gente che abitava nella pianura padana da millenni, mentre le Alpi erano inabitabili. Per cui le Alpi comunque sono state colonizzate tardissimo, circa 7.000 anni fa, da gente che è arrivata dal piano. Non potevano stare lì perché erano perfettamente sequolte da ghiacci. Si sono arrivati tutti da fuori. Bisogna cancellare questo concetto che o uno ha un pedigree oppure non può essere montanaro. Sarà sempre più invece un andare e venire. E questo vale soprattutto per un altro concetto assurdo che abbiamo ancora in testa, che il mondo sia diviso tra città e montagna, per esempio. Il mondo è grande come una scatola di cioccolatini ed è una barchetta che sta affondando, quindi non è un problema di città e montagna. Il problema è imparare a vivere i luoghi, gli ambienti senza distruggerli. E questo è il problema. Ma questo vale a Torino come vale a Vazon. Naturalmente con degli sguardi diversi perché ognuno deve avere le competenze per vivere un certo territorio e se scelgo di stare qua lo faccio in un modo, ma il problema è di tutti. Il mondo è uno, la cultura ormai, i ragazzini che nascono a Ulx hanno esattamente la stessa cultura dei ragazzini che nascono a Torino. Quindi è tutta retorica quell'altro. Tutta retorica, veramente. Anch'io mi sono imbattuto in tonnellate di retorica che cercavamo di respingere, noi, insomma, in un certo tipo di ambiente che studia la montagna sotto le sue più varie sfaccettature, ma poi nella realtà dei fatti è tutta lì questa retorica, non è cambiato nulla. E l'ultima retorica che dovremmo cominciare ad affrontare è quella dello sci. Il che non vuol dire che lo sci domani lo chiudiamo, ma vuol dire che lo sci è in una fase discendente, inarrestabile, perché la neve salirà sempre di più, i costi saliranno sempre di più. Già oggi lo paghiamo con le nostre tasse e quindi non è possibile pensare in eterno di poter puntare solo su quello. E allora, come mi pare anche tu abbia scritto, la stagione della montagna futura, ma non di un futuro tra mille anni, un futuro vicino, sarà l'estate. Sarà la stagione in cui la montagna sarà più appetita. Questo non vuol dire cancellare gli impianti, smantellare tutto per carità, teniamoli e cerchiamo di farli funzionare, però vuol dire che dobbiamo essere un po' pronti al cambiamento e non siamo affatto pronti. E' una parte importante che io ho voluto esplicitare in questo diario, è proprio l'aspetto legato alla cultura della montagna. Io vedo ancora troppa gente che va in montagna soltanto perché c'è un dislivello da fare, con l'orologio, correre per poi arrivare a farsi il selfie in venta, anche con le bici, con qualsiasi cosa. Tutti che corrono, dico ma tu l'hai guardato e ti sei reso conto di dove sei? No, l'importante è la competizione o con gli altri o con se stesso fare il minuto in più o in meno rispetto alla prestazione precedente. Invece quel tipo di montagna che descrivi tu, è una montagna straordinaria perché la montagna è frattalica, cioè si riproduce con dei moduli a scale diverse che sono tutti simili, la sfaccettatura di una vetta dei promontori, delle valli, si riproduce fino a dentro un sasso. Questa frattalità è anche geografica ma è anche culturale e la bellezza della montagna è che è un luogo di contemplazione e noi abbiamo completamente perso il tema della contemplazione. La contemplazione a mio parere nei pochi tempi che la nostra società lascia è un ottimo modo per sentirsi soddisfatti senza dover sempre correre. Invece oggi l'incapacità di godere della contemplazione ti obbliga a una continua corsa anche quando sei nel tempo libero. E smettila, siediti sotto un larice e guarda, oggi era così, io sono sceso tre ore fa più o meno da lassù, oggi qui il cielo era grigiastro, invece nell'interno delle valli era una dolcissima giornata d'autunno con temperatura mite, i larici che cominciano a diventare dorati, ma basta semplicemente sedersi o su un balcone di casa se ce l'hai oppure sotto un larice se vuoi leggerti un libro ti leggi un libro, è finita lì, non ti servono delle protesi per godere di questa bellezza, non ce n'è bisogno, non hai bisogno di avere un'auto, una bicicletta fibra di carbonio, di questo, di quell'altro, la moto, ma semplicemente guarda quello che hai davanti e cerca eventualmente ogni volta di indagare un pezzetto di questo mondo che può essere un pezzetto di storia, un pezzetto di geografia, un pezzetto di clima, un pezzetto di botanica, di zoologia, ne hai per tutta la vita, non ti basta la vita solo per approfondire un piccolo luogo, poi non è vietato muoversi e quindi voglievo anche uscire dallo stereotipo del fatto che se uno va in montagna poi deve radicarsi lì, cementarsi i piedi, cioè il montanaro è visto come un monolite che fa parte poi di quella regione lì, ma non è vero, non è che io sia obbligato poi una volta che sono salito là a rimanerci, questa sera sono qui, domani mattina devo prendere il treno, vado a Bolzano, torno, so già che salirò venerdì e faccio venerdì, sabato, domenica, lunedì, sto lì, poi ho di nuovo un altro viaggio di lavoro e mi muovo, non è vietato, semmai questo è importante per investire sulla possibilità di dare a tutti una montagna che sia frequentabile, relativamente comoda con dei mezzi pubblici, anche con dei collegamenti di viabilità accettabili, decenti, poi non è vietato muoversi, l'unica cosa che non voglio che accada è creare il mito di una montagna dormitorio, dove mantengo il lavoro a Torino e vado là, allora no, quello non avrebbe senso, sarebbero una macchina in più che al mattino alle sei si mette in coda sulla strada e alla sera alle sei ritorna su, questo è assurdo, grazie al telelavoro e alla disponibilità di internet moltissimi mestieri oggi possono essere fatti in montagna invece che in città e poi ci si muove per le necessità che ha uno a Torino come può averle a Ulx.